Allora la telefonata di stasera, vai! Ma questo non è l'unica avanti. Porta rispetto delle donne! Porta rispetto delle donne! Porta rispetto! Ho fallato TikTok in una settimana! Ma perché è successo? Allora fammi parole! Ma stai dicendo, ma non ti sei... Io voglio un milione di lampedusa. Io voglio un milione di lampedusa. E vabbè, prenditi un milione di lampedusa, ma ci potremmo anche arrivare. E perché? Voglio un milione! E perché vuole un milione di invasione? Voglio un milione di invasione! Perché? Perché vuole un milione di invasione? Ma c'è sì! Ma c'è che non veniva senza tua! Ma che è a casa tua, non ti preoccupare. A casa tua! Ma non è impazzito questo qua oggi. E' impazzito! Tanta rabbia è l'azione. Ma è a casa tua! Vabbè. Ma c'è il generale dipendibile! No, il generale dipendibile, il generale... Il generale... Il generale un gigante! Luca da Marta, Aras, Marco da Bologna, che marca la parola, Enrico Provincio di Libri, giù un attimo, Enrico Provincio di Libri, vai Enrico, Libri.